Musica Prima dell'inizio della conferenza stampa, come potete vedere, il presidente dell'Aurentis sta parlando con il sindaco, gli assessori e i responsabili del comune di Folgarida Credo che sia una stagione sicuramente importante per la nostra economia, come quelle del passato Naturalmente quest'anno abbiamo questa calamità che ci ha fortemente penalizzati e quindi dovremmo far fronte con alternative anche in quel campo, in questo caso solo di programmazione naturalmente perché il Napoli comunque per noi è una cosa molto concreta e di una validità importante e determinante per noi